buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 11 dicembre 2020 sul canale 17 come tutte le mattine c'è la rassegna stampa ovvero la selezione delle notizie più importanti dei quotidiani corriere adriatico il resto del carlino che come sempre avete a disposizione in edicola in versione cartacea allora cominciamo dal santo di oggi poi il tempo e subito i giornali santo di oggi è san damaso primo il sole sorgerà alle 7 34 e tramonterà le 16 31 adesso vediamo il tempo non c'è molto da dire questo il bollettino con la grafica della protezione civile delle marche per oggi vedete cielo sereno poco nuvoloso coperture in ulteriore aumento dal tardo pomeriggio per domani ancora cielo sereno o comunque più che più che sereno insomma prevalentemente nuvoloso con locali schiarite però verso la serata per la giornata domenica 13 invece ancora cielo parzialmente nuvoloso per la presenza di nuvole basse che si dissolveranno nel corso del pomeriggio condizioni di tempo stabile per gran parte della prossima settimana subito i giornali prima pagina del carlino di pesero la guerra dei regali la fotonotizia centro i centri commerciali sono chiusi nel fine settimana sapete ci sono polemiche su questa su questa cosa perché chiaramente si sentono ormai molto penalizzati rispetto ad altri negozianti e capiamo bene che questo queste sarebbero stati in tempi normali settimane economicamente importanti per tutte queste persone per questi commercianti ora la situazione invece si fa sempre più pesante dal punto di vista economico poi in apertura gli donano le ferie per assistere il figlio dipendente del comune chiede aiuto ai colleghi per aiutare il figlio minorenne in 60 rispondono all'appello da fano mirco tonelli michela micheli bancarotta condannata all'ex coppia d'oro dei centri estetici e poi la morte tragica di un uomo di 101 anni a bologna si tratta di un pesarese che è morto inghiottito dalle fiamme nel suo appartamento per quanto riguarda invece le messe le messe di natale a pesero si è deciso in diocesi la messa della vigilia si fa solo alle 18 e 30 il dramma degli anziani casa roverella i contagi salgono a 24 e poi in zona porto sempre a pesero bevono davanti al bar fuori orario chiuso il locale poi il commento di roberto fiaccarini sulla sanità il nuovo ospedale ne riparliamo per altri 30 anni questa è la domanda e poi la cronaca da fano in seguimento da film un arresto tra i rovi furti delle operazioni della polizia del commissariato di fano e poi perdita di gpl urbinate chiusa per ore la strada interviene una squadra speciale dei pompieri andiamo a vedere adesso invece il corriere adriatico screening cercasi task force l'area vasta sta raccogliendo la disponibilità tra il personale la zona della vitri frigo è in pole position dove fare questi test di massa e poi questi screening di massa poi il numero dei positivi è il più alto nella regione il governo pensa di rivedere poi i divieti per le festività a centropagine invece la morte di pablito rossi paolo rossi per sempre l'eroe dei nostri gio dei nostri sogni titola la fotonotizia stroncato da un cancro a soli 64 anni nell'ottantadue i suoi tre gol al brasile lanciarono l'italia verso un leggendario mondiale e poi merloni e lo sponsor quando paolo e juve cenarono da noi francesco merloni racconta il paolo rossi che cenava a casa sua con tutta la juve quando ariston nel 1982 fu il primo sponsor della storia della juventus della signora e poi da uliassi a ferretti le marche in lacrime grazie a lui è stato bello essere italiani all'estero e ricordo di mauro uliassi chef stellato di paolo rossi orgoglioso di essere il secondo rossi è scritto invece sui social valentino rossi massacrato di botte al parco nove anni all'aggressore sparito tentato omicidio al miralfiore condannato però è irreperibile il pm ne aveva chiesti meno di cinque i giudici raddoppiano e poi inseguita banda di ladri un arresto nei campi partiamo da dall'addio all'eroe dei mondiali andiamo però questa volta sulla pagina di senigallia perché paolo rossi nel 2016 presentò una sua mostra che ebbe un grandissimo successo migliaia di visitatori in una location straordinaria come quella appunto della rotonda a mare di senigallia andiamo a vedere il titolo e la fotografia le fotografie di quei giorni spensierati per il nostro campione quel giorno di pablito alla rotonda a mare pronto a scendere in campo per beneficenza disse quattro anni fa la sua mostra con i cimeli di un'intera carriera tra la mitica maglia numero 20 e il pallone d'oro l'ex sindaco mangelardi dice nacque tra noi un'amicizia speciale e ci siamo lasciati con la promessa che sarebbe tornato per una partita e adesso tutte le pagine poche selezionate riferite alla situazione della pandemia nella nostra regione intanto c'è da segnalare questo pressing del nostro governatore il governatore delle marche acquaroli sul ministro speranza per chiedere che cosa chiedere di rivedere un po quelle norme molto stringenti in particolare in atto che andranno in atto il 25 quindi il giorno di natale il giorno di santo stefano il giorno di capodanno perché quei tre giorni lì sono in realtà per tutti giorni da zona rossa anche di più se vogliamo perché perché non ci si potrà muovere di casa non si potrà uscire dal proprio comune e immaginiamo tutti quei piccoli centri quei piccoli paesi dove davvero non si fa nulla e quelle persone sole le persone che vivono sole gli anziani soli possono essere visitati sì no insomma ci sono tante domande corrisposte qualche qualche spiraglio anche conte ha dimostrato in queste ultime ore di voler alleggerire un po mentre speranza il ministro è più rigido il ministro della salute dice no meglio di no meglio restare con quello che abbiamo deciso cioè 25 26 e capodanno tutti ognuno nel proprio comune senza uscire intanto vedete il governo è pronto a cambiare la norma che blinda i comuni acquaroli sente speranza intanto la buona notizia è che l' rt cioè l'indice di contagio nella regione marche scende ulteriormente scende ancora il sindaco di pesero ricci dice sì al correttivo anti solitudine pesero però deve fare conti la nostra provincia con dei numeri che sono tutt'altro che positivi nel senso che i contagi aumentano i numeri dei positivi sono sotto gli occhi di tutti ieri 36 malati però sono stati dimessi sei i decessi quindi diminuiscono un po ma nell'rsa covid gli ospiti infetti aumentano c'è stata una vittima anche al galantara di pesero sono 339 casi accertati con 3.000 tamponi di questi 41 presentano sintomi i pazienti deceduti avevano tra 64 e 97 anni tutti con patologie pregresse anche ieri parlavo con una persona che sta studiando nelle marche tutta una serie di parametri di numeri e vedrete che ci saranno delle sorprese se si vorranno evidenziare queste questi numeri quando sarà il momento quando sarà finito tutto quando ci sarà la possibilità eventualmente di analizzare bene tutte le questioni soprattutto il riferimento a che cosa il riferimento ai decessi continuiamo a indicare come morti di covid per covid tutte quelle persone che in realtà sono malati di altri sono morte di altre patologie quindi andranno riviste se c'è questa volontà tutte queste queste statistiche tutti questi numeri che oggi certamente fanno impressione ma che poi quando a mente lucida e a bocce ferme potremo fare un'analisi curata definita ben precisa vedrete che le cose saranno andrà saranno riviste in modo diverso adesso mi fermo qui non posso andare a non posso andare oltre allora dallo screening invece al vaccino le marche modello nazionale i test di massa del 18 dicembre saranno le prove generali per la profilassi l'assessore salta martini dice anche il ministero della salute è interessato ora non dimentichiamoci queste date per noi marchigiani soprattutto per chi risiede nelle città con più di 20 mila abitanti e nel nostro caso in provincia di pesero anche quelli di urbino perché sono stati inseriti ecco ci sono questi screening di massa dove ognuno di noi è chiamato a partecipare perché essendo volontario non è che vengono a casa a prendervi quindi deve esserci di spontanea volontà la decisione di farsi testare e questo perché è importante perché si fa una mappatura di soprattutto si va a scovare il virus laddove a volte c'è ma non si vede ok non si vede perché non ci sono sintomi ieri è stata la giornata delle marche ieri abbiamo trasmesse in diretta una bella trasmissione alle 17 nel corso di questa diretta sono state premiate in questa giornata in diretta da Loreto diverse persone tra cui anche il virologo Guido Silvestri che è stato chiaramente collegato dagli Stati Uniti da Atlanta non era in presenza e in più tanti giovani tra il personale sanitario che lavora e sta lavorando in piena pandemia Silvestri e gli eroi del covid questo è il titolo in trincea senza arrendersi premiate le più giovani che lavorano appunto in in ospedale e non solo in ospedale casa roverelle invece ora i positivi salgono a 24 titolo del resto del carlino anche sei sanitari e 12 malati di alzheimer si aggrava dunque la situazione nella casa di riposo nelle prossime ore effettueremo un nuovo screening su ospiti e personale contagi ecco perché siamo tornati in testa questo è un articolo che troverete a pagina 4 del resto del carlino di pesero la nostra provincia ancora è con il numero maggiore di positivi da inizio dicembre crescita sostanziosa in città si attenua invece a fermignano sei le vittime tre delle quali in provincia c'è anche un 64enne di pian di meleto serviva vino alle 20 e 30 voi sapete che i locali alle 18 devono essere assolutamente rigorosamente chiusi invece serviva vino alle 8 e mezzo di sera il bar del porto un bar del porto è stato chiuso e lo sarà per i prossimi tre giorni la municipale trova un gruppo di 5 6 persone a bere davanti al locale serrande giù fino a domenica i clienti si allontanano appena vedono hanno visto gli agenti della polizia locale di pesero dalla pagina di senigallia il carlino il covid hotel va avanti fino al 31 dicembre la regione ha autorizzato il prolungamento dell'apertura della struttura che ora organizzerà il natale per le persone che si trovano in quarantena poi sempre da senigallia coprifuoco violato raffica di sanzioni andiamo a parlare adesso invece di quella notizia che vi abbiamo dato qualche giorno fa della morte di una 56enne che era in bicicletta ed è stata investita da un'auto dei vigili del fuoco a pesero per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare la donna è morta sul colpo ora sono stati rintracciati i figli che vivono in lussemburgo e oggi sono attesi a pesero per il riconoscimento della salma tra poco vedremo adesso questo il corriere adriatico che titola rintracciati i figli la polizia lancia però un appello ai testimoni i familiari di questa 56enne vivono in lussemburgo sono attesi oggi e questa invece la fotografia della donna la pubblica il resto del carlino ecco nina nina moisei questa 56enne moldava badante morta mercoledì sera dopo essere stata travolta da un camion dei pompieri aveva due figli una femmina che si trova in romania e un maschio che si trova invece in lussemburgo il compagno risulta essere invece a san leo la polizia locale di pesero si è attivata per identificare la salma e dunque avvisare i parenti è un'operazione non semplice le cui procedure si sono ultimate ieri pomeriggio per assistere alla famiglia si è attivato anche il consolato moldavo e gli stessi pompieri di pesero che hanno collaborato non ci sono testimoni che possano ricostruire la dinamica dell'investimento la versione più probabile è che ambedue i mezzi quindi il camion dei pompieri guidato da un 55enne e la bici della donna viaggiassero ambedue lungo la statale verso la rotatoria di via Milano e che il camion svoltando a destra verso via Buccari abbia travolto la ciclista uccidendola e questa invece è sempre dalla pagina del resto del Carlino la notizia che riguarda la banda in fuga con tanto di inseguimento e l'arresto alla fine di questa rocambolesca fuga tra i rovi della panoramica dell'ardizio il commissariato di Fano ha bloccato un 24enne albanese i due complici sono riusciti a dileguarsi nel buio formavano insieme una gang pronta a mettere a segno altri furti in città nell'auto sono stati trovati anche arnesi di scasso sono stati, sono sospettati quelli della banda di aver rubato fucili a Villa Fastigi colpivano prima di cena tra le 17 e le 20 e così sarebbe stato anche nella giornata di mercoledì il 24enne è tornato però in libertà, i reati e suo carico, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale poi qui la fotografia invece dei mezzi dei pompieri ieri mattina al distributore lungo la via Montefeltro dove c'è stata una perdita di GPL, un allarme che ha fatto arrivare subito sul posto una squadra speciale dei pompieri il caso è avvenuto in un distributore lungo la Montefeltro la statale è stata chiusa nella notte, ieri è stata riparata poi la guarnizione messa della notte di Natale, l'arcivescovo Piero Coccia ha deciso insieme alla diocesi di anticipare tutto alle 18 e 30 vietata dalla DPCM la celebrazione tradizionale di mezzanotte in Duomo resta solo quella pomeridiana ecco tutti gli orari stabiliti dall'arci diocesi mentre alla Gian Santi un insegnante è risultata positiva al Covid due seconde rischiano di finire in quarantena andiamo sulla pagina di Fano bancarotta fraudolenta, ex coppia condannata Mirco Tonelli e Michela Micheli ai tempi erano amministratori della Ateneo SRL che operava nel campo dell'estetica e dei saloni di bellezza al tempo scrive il giornale Alessandro Mazzanti marito e moglie rispettivamente amministratore lui e amministratrice della società Ateneo nata nel 2000 e dichiarata fallita dal Tribunale di Pesero nel 2012 e operavano con tre sedi a Pesero poi a Fano e a Calcinelli ieri il Tribunale sezione collegiale con Presidente Lorena Mussone ha condannato l'ex coppia nel frattempo si sono separati ritenendoli colpevoli di aver intascato in dieci anni circa 700 mila euro che invece appartenevano alle casse della società che i due amministravano e ancora dal giornale le tradizioni quella del presepe del porto Rolando Gasparoli dona il mitico presepe ha donato il suo presepe marinaro alla città il sessantenne fanese Rolando Gasparoli per anni lo ha mostrato ai fanesi che hanno saputo coglierne anche la particolarità dalla finestra di casa sua affacciata sulla darsena del porto vecchio adesso siccome ha cambiato casa insomma l'ha donato al porto di Fano e ve l'abbiamo fatto vedere anche in diretta qualche settimana fa dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico banda di ladri in fuga un arresto rocambolesco in seguimento in strada nei campi da parte della pattuglia del commissariato di polizia due riescono a scappare in manette un albanese clandestino di 24 anni nell'auto avevano arnesi da scasso e poi scegliere le superiori giuste orientamento con quattro presidi questa sera alle 21 dopo il nostro telegiornale scrive il Corriere Adriatico su Fano TV per fornire un aiuto ai ragazzi di terza media questo è un appuntamento importante perché comunque sapete insomma gli open space quelli che si fanno di solito in questo periodo per orientare la scelta dei figli alla decisione di quale scuola superiore scegliere quest'anno in presenza sarà difficile non è possibile non si può entrare negli istituti eccetera quindi è un'occasione per vedere e magari prendere spunto su quale scuola frequentare il prossimo anno quando finalmente questa pandemia sarà almeno ci auguriamo terminato quindi appuntamento questa sera alle ore 21 andiamo sulla pagina 12 del resto del Carlino muore bruciato in casa a 101 anni si chiamava Antonio Leonardi aveva superato anche il Covid l'anziano pensionato era originario di Pesaro ed abitava a Bologna è morto ieri all'alba bruciato purtroppo nel suo letto dopo che le fiamme avevano avvolto il suo appartamento in zona bolognina questa è l'immagine che pubblica il resto del Carlino da Bologna l'appartamento vedete le fiamme che hanno avvolto e completamente distrutto l'appartamento nel quale purtroppo ha perso la vita questo questo pesarese truffatori bloccati pochi attimi prima di entrare in banca con dei documenti falsi i carabinieri li hanno bloccati sono i carabinieri di Montecchio sempre da Fano parcheggi liberalizzati sempre però occupati vanificato l'effetto di favorire degli esercizi degli stalli non più a pagamento fino al 26 dicembre fruiscono i residenti e quanti lavorano in centro e di conseguenza per tutti quelli che arrivano da fuori non c'è spazio l'inutilità dell'iniziativa prevista dall'assessore Tonelli ASET acquisirà dati utili poi al confronto poi c'è una invece un altro articolo interessante sul resto del Carlino di oggi nella pagina degli spettacoli dove si parla di Dante Alighieri che probabilmente appunto visitò anche la città di Fano nuove scoperte sul sommo poeta italiano da parte del professor Andrea Angelucci ora di questo noi vi abbiamo parlato anche qualche giorno fa perché come scrive il giornale questa mattina quello tra Dante Alighieri e la città di Fano è un rapporto più familiare di quanto non si sia creduto fino ad oggi ad avanzare la tesi proprio alla vigilia delle celebrazioni per l'anno dentesco è Andrea Angelucci che è presidente del Circolo Bianchini nell'ultimo video che il sodalizio culturale fanese ha prodotto per la serie Esplorare i confini in onda su Fano TV è un po' uno scoop dice il professor Angelucci perché avanza nuove e ben fondate ipotesi in base ad un esame più attento del testo della Divina Commedia che appunto Dante è venuto a Fano poi c'è tutto l'articolo interessante che potrete leggere questa mattina poi sempre da Fano c'è un'altra cosa c'è un'altra un'altra data importante da tenere a mente sperando che le cose vadano senza troppi ritardi e che è quella del 2022 novembre 2022 quando sarà realizzata la fabbrica del carnevale e non solo la casa della musica l'hub sulla mobilità la caffetteria tutto dovrà essere terminato entro appunto novembre 2022 e cresce l'entusiasmo per questo progetto è una si tratta di un polo culturale questo è un rendering che pubblica il giornale questa mattina del Sant'Arcangelo dove che adesso è dismesso insomma dove ci sarà questa fabbrica del carnevale e non solo nell'autunno del prossimo anno l'avvio del cantiere nasce un nuovo dunque punto di riferimento sulle case popolari invece accesso al bando con le credenziali speed i sindacati tornano alla carica le organizzazioni chiedono al sindaco di Fano Seri un incontro ed evidenziano che il tipo di utenza ha difficoltà ad accedere alla strumentazione informatica sempre da Fano Corriere Adriatico niente piano rifiuti vuoto decisionale la regione diffidi e si sostituisca all'ata mozione di Ruggeri del 5 Stelle così lo scopo sono i profitti non l'interesse collettivo i casi biodigestore e discariche andiamo a Pesaro Piazza Redi educatori contro le baby gang la comandante dei vigili della polizia locale di Pesaro conferma la sua strategia ovvero di mettere due operatori in questo caso si chiamano Cristian e Sara che dialogheranno con quei ragazzini giudicati terribili l'assessore Mengucci aggiunge coinvolto un team specializzato per affrontare il disagio giovanile mentre dalla pagina 14 del Carlino sul biodigestore l'ex dirigente dell'ARPAM il fanese Luciano Benini dice quel digestore va ridimensionato striglia la politica latitante e rassicura sui rischi per la salute sono trascurabili se però le emissioni rientrano sempre nella norma da Urbino da Urbino Vilberto Stocchi che è l'ex rettore magnifico rettore dell'università di Urbino da ieri è magnifico rettore dell'università telematica San Raffaele di Roma nota come Roma 5 e per lui insomma un bel record lui che è uno scienziato di fama internazionale nel settore della biochimica e della biologia meloccolare che adesso appunto dirigerà questa importante importante università romana emergenza covid aiuti economici alle imprese pubblicato il bando a disposizione ci sono 300 mila euro a Urbino le domande vanno presentate entro mercoledì 23 dicembre ecco chi ne ha diritto sempre da Urbino da 35 siamo passati a 75 mila tonnellati i rifiuti a Calucio sono una emergenza articolo 1 solidale con i residenti attacca Marche Multiservizi e il sindaco Gambini e parla di solo profitti e indifferenza a Urbino sostenibile il premio Fondazione Sant'Agata consegnato online nel corso di Rome Museum Exhibition poi Valmetauro questa volta è sulla pagina della Valmetauro ma si parla di Fano Vitruvio rilanciato il centro studi un comitato scientifico di prestigio ci sono anche i massimi esperti stranieri il presidente del comitato Zaccilli dice l'entusiasmo è stato ritrovato l'entusiasmo tra gli obiettivi una rivista una summer school e collaborazione con istituti internazionali è in programmazione su Fano TV una interessante intervista proprio al presidente Zaccilli che parla appunto di Vitruvio e del suo rapporto con Fano insomma vedete andando a scavare nel passato abbiamo trovato Dante Leghiere un pezzo da 90 un altro pezzo da 90 che è appunto Vitruvio insomma voi non vuoi Fano ha tante belle cose da raccontare strada dei Barbanti un percorso a rischio asfalto ammalorato e gradi grandi buche parte una raccolta di firme a Fossombrone per la provincia buone spese invece a Pergola per 45 mila euro niente è tolto alle famiglie ecco i fondi per il sociale la giunta replica la minoranza riserva nel servizio trasporti e poi la torre a Mondolfo si tinge di rosso speranza per il Natale che non ti aspetti la Proloco Trecolli aderisce al programma provinciale di taglio basso l'esequio del fondatore della Croce Rossa italiana toccanto Omelia di Don Egidio che ricorda il buon samaritano l'opera di Marcello era umana ma anche un'opera di Dio Vallefoglia voucher per il sostegno alla spesa da Monbaroccio sabato riparte lo screening Covid il sindaco di Monbaroccio ricorda i servizi attivati non vergognatevi a fare domanda perché è un vostro diritto e poi la polemica con la regione da Vallefoglia assessore venga a vedere Vitri Biancani Ucchielli chiedono Saltamartini di ripensare le decisioni sulla casa della salute siamo in chiusura anzi possiamo dire che abbiamo terminato qui la nostra rassegna stampa grazie come sempre per la vostra attenzione vi ricordo oggi pomeriggio alle 18.30 essendo venerdì l'appuntamento in diretta con Babbo Natale per tutti i bambini e poi il telegiornale alle 20.30 chiedo a Riccardo in regia se c'è anche una nuova puntata di Casa Fiorenzo sì Casa Fiorenzo che è una produzione straordinaria guardatela questo programma di cucina perché i due protagonisti Fiorenzo e Stefano sono davvero due cuochi chef straordinari che fanno fanno queste ricette e ti lasciano sempre con un bel sorriso sono semplici della tradizione locale però ben fatti quindi appuntamento anche con la cucina grazie per essere stati con noi a voi tutti l'augurio di una serena giornata arrivederci arrivederci a voi Grazie a tutti.